Sono Maria Terese, questa è la mia quindicesima volta in Manaltira Mayurvedic Hospital. Sono venuta qui 15 anni fa sul suggerimento di miei amici per un mio problema autoimmune. Da quella volta vengo ogni anno, ho dovuto purtroppo interrompere gli unici due anni nel periodo del Covid. Perché vengo qui? Perché innanzitutto ho trovato uno staff medico e dei terapisti veramente molto seri, preparati, che mi seguono fin dal primo momento. Quindi questo mi ha dato molta fiducia e soprattutto le cure hanno portato dei grossi giovamenti alla mia salute ed è per questo motivo che vengo ogni anno. Secondo motivo, il posto che ci ospita è un posto meraviglioso. Sembra quasi un giardino botanico. Praticamente sei lontano da tutto e da tutti, solo immerso nella natura con i suoni della natura, i canti degli uccelli. E davanti a un oceano meraviglioso. E questo sicuramente fa parte della cura, del rilassamento e del riuscire a tagliare con i ritmi a cui siamo abituati. Il terzo motivo è l'accoglienza, la gentilezza, iniziando dai manager che sono sempre disponibili a venirti incontro, a risolvere le tue problematiche, le tue richieste e tutto lo staff, dalla persona che si occupa delle pulizie, al ristorante, alla reception, è sempre molto disponibile e ti fa veramente sentire a casa. E questo non è un aspetto scontato. Il quarto e ultimo, ma non ultimissimo motivo, è che qui ho trovato sempre delle persone, degli altri ospiti interessantissimi. Chi viene qui viene con un certo mood, ha una certa propensione, viene con degli obiettivi. Quindi ci si ritrova accomunati dallo stesso spirito, dagli stessi obiettivi. E guarda caso, oltre a rimanere con molti in contatto durante l'anno, ci si ritrova molto spesso annualmente, senza neanche mettersi d'accordo. Quindi questi sono i motivi per cui io continuo a venire qui, spero di continuare ancora. E malgrado aver viaggiato tanto, essendo andata in tante parti nel mondo, aver visitato tanti resort, Manaltiram, Ayurveda Hospital, rimane uno dei miei punti di riferimento, uno dei posti in cui ogni volta che vengo ringrazio per poter essere qua. Quindi lo consiglio vivamente. Grazie.